Musica Durerà fino a domenica il primo anticiclone del 2014, poi torneremo a riaprire gli ombrelli con un graduale ritorno alla normalità invernale. E così, secondo Trebbi Meteo, dopo il maltempo delle feste di Natale, l'alta pressione in arrivo dal Nord Africa ha riconquistato il Mediterraneo, determinando una fase nel complesso stabile che ci accompagnerà almeno fino a domenica, con temperature che risulteranno sopra le medie del periodo, anche di 4-5 gradi. Insomma, finora è stato un inverno che ha indossato le vesti dell'autunno. Non fa freddo e piove come se fossimo a novembre, solo le Alpi hanno fatto il pieno di neve, mentre l'Appennino aspetta ancora importanti nevicate.